Come sta andando questa terza edizione del mercatino di Natale e Gesturi? Beh, siamo abbastanza soddisfatti, speriamo di poter ripetere questo evento che è in prossimi anni, speriamo che comunque sempre meglio, siamo contenti della mia stessa anno, quanta città è stata una bella caratteristica, è stata una bella caratteristica, è stata una bella caratteristica, è stata una bella caratteristica.